Buongiorno a tutti, io vi tolgo subito all'imbarazzo, parlo in italiano. Io sono l'ingegnere Luca Sassoli, sono responsabile della divisione energia del gruppo FinService, società di consulenza specializzata nel campo della consulenza energetica. Oggi faremo appunto una panoramica sulla efficienza e risparmio energetico nelle aziende industriali. Io vengo dal settore industriale, sono un ex dirigente d'azienda, quindi conosco bene i comportamenti degli operai, i comportamenti delle aziende, degli imprenditori. Devo dire che in questo campo dell'efficienza energetica l'industria sta un po' segnando il passo, nel senso che ci sono settori che sono molto più avanti nell'efficienza energetica, anche se hanno teoricamente dei consumi, dei fabbisogni energetici molto più bassi di quelli che sono le aziende. Prendiamo per esempio il caso come la relazione di prima del settore dell'edilizia, vediamo che negli ultimi 3, 4, 5 anni ci sono stati dei passi avanti veramente importanti. Addirittura abbiamo edifici in classe A, A più, addirittura super efficienti, con consumo zero e quindi siamo andati molto avanti. Un altro esempio può essere la pubblica amministrazione, nel quale abbiamo avuto giusto qualche giorno fa le elezioni comunali. Devo dire che in tutti i discorsi, in tutti i programmi, c'è sempre il discorso dell'efficienza e dell'uso razionale dell'energia, cosa che fino a qualche anno fa era impensabile, i problemi erano ben altri un po' per tutti. Le aziende industriali sono rimaste indietro, il motivo è abbastanza semplice, perché diciamo che fino al 2007 l'energia costava poco, anche adesso secondo me costa poco. Costava poco per cui non si è mai fatta enfasi sul risparmio energetico, se non per le aziende che erano molto energivore, che quindi hanno capito già da qualche anno che si può risparmiare qualche soldo. Focalizziamo l'attenzione sulla qualità, sulla produttività, sull'internazionalizzazione, sull'innovazione del prodotto, ultimamente sull'ambiente. E adesso poi dal 2008, quando i prezzi del petrolio sono andati alle stelle, hanno capito che forse un euro risparmiato è un euro guadagnato, come diceva forse Paperon dei Paperoni. Effettivamente è così, adesso le aziende stanno guardando molto nel campo dell'efficienza energetica e abbiamo molta ricerca di consulenza proprio in campo del risparmio, dell'uso razionale dell'energia. Io non voglio fare una panoramica, nel senso non voglio farvi vedere diagrammi grafici, ma voglio darvi un po' di consigli, se ci sono qua degli imprenditori o dei responsabili dell'azienda, dei consigli operativi di quelli che può essere un uso efficiente dell'energia nelle aziende industriali. Partiamo quindi dall'inizio, cioè dall'acquisto, da come arriva l'energia elettrica nelle aziende. Diciamo che la maggior parte acquista energia elettrica e da come dice anche il sito dell'autorità dell'energia, più del 90% degli utenti non ha ancora cambiato fornitore di energia. La maggior parte sono rimasti con il vecchio fornitore. Questo è un punto che può dare dei grossi vantaggi all'azienda, il fatto di cambiare fornitore, il fatto di mettere in competizione più fornitori. Anche perché adesso ci sono delle offerte molto interessanti, per cui è giusto far venire i rappresentanti commerciali dei fornitori in azienda, farli sedere, metterli in concorrenza e quindi si risparmia tranquillamente un 10-15% di quello che è la bolletta elettrica. E questi sono numeri importanti. Così come è importante ridiscutere il contratto di fornitura, tutte quelle che sono le penali, tutti quelli che sono i fuori picco, gli esuberi di potenza, eccetera. E questo gli utenti residenziali non è che possono fare più di tanto, però le aziende hanno veramente un potere in mano che li può far scendere di prezzo e ottenere dei risultati molto buoni. Un altro punto è le poche aziende che producono energia elettrica. La cogenerazione o la produzione di energia elettrica è ancora poco sviluppata nelle aziende, in particolare adesso negli ultimi anni vediamo che i pannelli fotovoltaici sono uno strumento interessante per l'efficienza energetica. Devo dire che negli ultimi mesi i prezzi dei pannelli fotovoltaici sono veramente crollati. Noi stiamo facendo delle installazioni a prezzi che sono inferiori ai 3.500 euro per kilowatt, cosa che fino a 3, 4, 5 mesi fa era impensabile. Sono cifre che permettono un ritorno all'investimento di 6-7 anni, per cui insomma un investimento che per un'azienda rientra già in un orizzonte temporale da prendere in considerazione. Aziende che consumano anche energia termica hanno la possibilità di fare la cogenerazione. La cogenerazione devo dire che nelle aziende non è molto sviluppata, non è molto introdotta. Questo è un peccato perché la cogenerazione dà veramente dei grossissimi recuperi economici, dà dei tempi di ritorno molto molto brevi e adesso con i nuovi incentivi sulle energie rinnovabili la cogenerazione per esempio da olio vegetale è un investimento che ritorna in meno di 3 anni con grossissimi vantaggi proprio in termini di energia termica disponibile a costo zero. Ci possono essere altre forme di cogenerazione per esempio il gas in alcuni casi può essere conveniente così come può essere conveniente anche il servizio calore cioè aziende che installano l'impianto di produzione di energia e cedono il calore all'azienda in modo tale che l'azienda non deve preoccuparsi della manutenzione dell'impianto, della sostituzione dei guasti eccetera. Queste sono operazioni che costano poco e che danno un grosso ritorno all'azienda. Una volta che un'altra area di intervento nell'azienda è l'uso dell'energia nell'industria quindi entriamo bene nel dettaglio di quelli che possono essere gli utilizzi dell'energia elettrica. Partiamo dall'inizio cioè l'energia elettrica che arriva e che deve essere distribuita in azienda. Qui voglio fare un inciso sul fatto che l'energia elettrica che compriamo non è sempre uguale non è sempre uguale nel senso che è un po' come il gasolio quando noi andiamo a comprare la benzina dalla Shell o dall'EP pensiamo che sia sempre la stessa ma in realtà è diversa però non ce ne accorgiamo perché il motore gira sempre quindi non sappiamo effettivamente che resa o che efficienza c'è. L'energia elettrica è la stessa cosa noi compriamo un'energia elettrica che però può avere una parte di energia reattiva che a noi non serve che però noi compriamo i motori girano con l'energia attiva e non con la parte reattiva per cui è importante tenere controllata la parte reattiva quindi fare gli opportuni rifasamenti dell'impianto questi sono costi in più che noi abbiamo perché comprando una certa potenza che include anche un'alta quota di potenza reattiva noi abbiamo un costo che non riusciamo a trasmettere sui motori quindi qui basta poco bastano fare degli impianti, dei condensatori per ridurre la reattanza e ci sono dei ritorni che sono veramente inferiori anche all'anno quindi investimenti che costano poco e danno delle grossissime resi ricordiamoci che un impianto elettrico di un'azienda dura 30-40 anni per cui questi piccoli vantaggi si propagano poi per tantissimi anni per cui danno dei risparmi molto grossi nel campo del risparmio energetico nelle aziende non c'è un settore dove si hanno dei grossi guadagni è fatto da tante piccole gocce che poi creano un risparmio grosso questo è sicuramente uno di quelli così come il dimensionamento degli impianti nelle aziende normalmente quelle che sono sorte 10-15-20 anni fa nascono e poi piano piano crescono, si incrementano, aumentano le dimensioni normalmente la parte relativa ai trasformatori e ai cavi elettrici sono sempre dimensionati come erano all'inizio e quindi ci sono delle grosse dispersioni per effetto già nei cavi i trasformatori che hanno delle grosse perdite e quindi è giusto dare un'occhiata anche a tutti questi aspetti qua inoltre è importante sapere dove consumo, quali sono le macchine che consumano qual è la dinamica del consumo nell'azienda e quindi è giusto mettere dei misuratori di energia nei punti critici bisogna pensare di fare del controllo dell'energia quasi un controllo di contabilità industriale dell'energia cioè bisogna sapere giorno per giorno, macchina per macchina dove ho consumato, quanti kilowatt ho consumato e che produzione ho fatto ecco rapportare i kilowatt consumati con i chili prodotti i litri prodotti o il valore economico della produzione facendo così si può avere un controllo, un monitoraggio dell'uso dell'energia in questo campo della distribuzione dell'energia nelle aziende c'è un risparmio potenziale che va intorno al 5-10% del costo energetico un altro campo di applicazione dell'energia sono chiaramente i motori elettrici non abbiamo più gli schiavetti che pedalano per fare energia per cui tutta l'energia praticamente viene sviluppata dai motori elettrici in questi ultimi anni il motore elettrico rappresenta più del 75% del consumo dell'energia in azienda quindi è la parte preponderante, la parte principale bisogna avere un'ottica di analisi come dicevo prima, nel medio-lungo periodo cioè qui mi scontro sempre con i responsabili degli uffici acquisti perché nel momento in cui si va a fare una valutazione di sostituzione di un motore per esempio c'è sempre la proposta del motore che costa 200 euro probabilmente dalla Cina e il motore che ne costa 400 probabilmente dalla Germania, dall'Italia, dall'Europa alta efficienza è chiaro che in un'ottica di brevissimo periodo tutti mi dicono ma come costa la metà dell'altro per cui compro il motore cinese è vero però ricordiamoci che il costo effettivo del prodotto è un decimo, è meno di un decimo di quello che è il costo effettivo del motore in tutti i suoi 20-25 anni di vita perché un motore elettrico dura questo periodo per cui è insignificante anzi per quanto riguarda motori alta efficienza l'investimento nel motore ritorna in meno di un anno per cui non devo andare a considerare non devo andare a considerare quelli che sono il costo effettivo ma il risparmio che non è in tutti gli anni e anche l'utilizzo di inverte di frequenze che mi permettono di far girare il motore non sempre al 100% del carico ma se ho bisogno di una potenza del 50% del motore io lo faccio girare al 50% in modo tale che consumo di meno invece di avere magari a valle del motore che va al 100% del carico un riduttore di potenza che è chiaro che è un uso non razionale dell'energia anche la manutenzione è un punto di intervento è di modo da riavvolgere i motori io sconsiglio chiaramente di riavvolgere i motori è meglio sostituirli perché ogni volta che si riavvolge un motore perdo almeno il 5% di efficienza conviene cambiarlo e andare avanti per altri 10-15 anni con il motore nuovo l'efficienza che io ho in questi 15 anni mi ripaga sicuramente il costo del motore e poi ecco un'altra cosa è assolutamente non cancellare buttare via tutte le cinghie trapezoidali che ci sono nei motori purtroppo qui la trasmissione del moto dai motori alla macchina avviene in maniera anche poco efficiente la cinghie trapezoidali sicuramente è un modo che è inefficiente perché col tempo slitta si diventa lasca per cui non mi trasmette più il moto in maniera efficiente per cui è meglio utilizzare cinghie dentate o altri sistemi che mi rendono molto di più questi sono interventi che costano veramente poco il potenziale di risparmio e qui si avvicina anche al 15-25% l'area compressa è un altro punto dove c'è un grosso consumo di energia elettrica nelle aziende in particolare i compressori anche qui vale lo stesso discorso di prima cioè devo utilizzare dei variatori di velocità per i compressori perché succede spesso si vede compressori che vanno al 100% e poi avalle dei riduttori o dei riduttori di pressione o comunque dei sistemi per ridurre la pressione questo è inefficiente è meglio creare delle reti a pressione differenti spesso capita di avere una rete a 7 bar e poi usarla a 5 bar per alcune macchine che sono incluse nell'anello conviene avere due reti una a 7 bar una a 5 bar con due sistemi di compressione più piccoli e sicuramente più efficienti controllare le perdite di carico ci sono sempre perdite di carico in particolare se utilizziamo dei tubi di ferro vecchio io consiglio di sostituirle con alluminio anodizzato perché lo sporco che avviene dentro i tubi di ferro mi crea delle grossissime perte di pressione a sinistra vediamo un tubo in alluminio anodizzato e a destra vediamo un tubo in ferro normale è chiaro che le perte di pressione sono molto più alte a destra che a sinistra e poi anche la qualità dell'aria che mi serve di solito normalmente viene sempre utilizzato un grado di essiccazione molto superiore di quello che in realtà le macchine hanno bisogno e anche la pressione spesso normalmente si va a 7 bar però anche se vado a 6 bar non c'è nessun problema per cui sono anche queste cose da valutare e poi il recupero termico spesso i compressori i compressori soprattutto quelli a vite cosa fanno? ci sono due vite contraposte che comprimono l'aria l'aria che viene compressa oltre ad aumentare la pressione aumenta anche di temperatura e così la vite aumenta di temperatura ci sono dei sistemi di refrigerazione che mi abbattono questa temperatura io consiglio di recuperare questa temperatura invece di raffreddare il sistema recuperare la temperatura e portarla in zone dove serve il calore qui il risparmio potenziale teorico è intorno al 25% anche i sistemi di pompaggio sono punti dove si consuma molta energia sembra che il 75% delle pompe da un'analisi della comunità europea è sovradimensionato e a volte è sovradimensionato anche del 20% questo perché normalmente la maggior parte degli impiantini vengono fatti da idraulici o comunque da personale non altamente specializzato che emette dei coefficienti di sicurezza per tutelare il proprio lavoro molto ampi per cui mettere le pompe sempre più grosse che in realtà non servono che fanno solo consumare molta più energia anche nel motore che regola la pompa va messo il variatore di velocità in quanto spesso ho bisogno di una portata molto inferiore di quella che è la portata massima della pompa per cui è inutile avere poi a valle delle valvole che mi riducono la portata uso degli inverter si può sostituire la girante della pompa senza nessuno questo è veramente un costo bassissimo e ho risparmi nelle efficienze della pompa molto alti così spesso i circuiti idraulici ci sono delle grosse impianti delle grosse pompe che comandano tutto il circuito se io ho bisogno di un'utenza che ha una portata limitata con altre utenze che sono spente io ho comunque che la pompa centrale va al 100% conviene invece mettere due o tre pompe più piccole in modo tale che se io ho bisogno di un'utenza con una portata inferiore mi va solamente una parte dell'impianto ecco anche questo chiaramente fa parte sempre del discorso della contabilità industriale dell'energia cioè mettere dei misuratori di perdite di carico sapere dove sono le perdite di carico qui ci sono dei risparmi potenziali molto alti io dico che arriviamo anche al 40% proprio perché la pratica mi dice che ci sono situazioni che sono veramente dove bisogna intervenire la ventilazione è un altro un altro aspetto importante dell'applicazione dell'energia circa l'11% del consumo di energia elettrica nell'azienda vale anche qui lo stesso discorso delle pompe il motore che genera che regola il ventilatore deve essere alta efficienza ce lo ripaghiamo in meno di un anno per cui sostituite tutti i motori quello che io consiglio come per il campo dei motori il collegamento diretto il collegamento tra motore e ventilatore deve essere il più diretto possibile buttiamo via tutte le cinghe trapeziali usiamo altri sistemi un po' più efficienti e usare variatori di velocità risparmio potenziale qui è intorno al 30% poi dipende chiaramente dal tipo di applicazioni dal tipo di aziende qui andiamo a vedere però un po' è quello che è l'esperienza pratica infine i sistemi di condizionamento questa è un'applicazione un po' più limitata intorno al 5% del consumo anche qui il freddo si fa normalmente con dei compressori per cui è importante installare i recuperatori di calore si vedono ancora impianti che sono stanze dove sono magari condizionate a mantenere una certa temperatura che hanno lampade che ha incandescenza e che quindi alzano la temperatura questa è una cosa abbastanza assurda bisogna mettere le lampade a luce fredda così come i compressori devono essere a velocità variabile potenziale qui siamo intorno al 15-20% questi sono tutti consigli che io vi sto dando così diciamo abbraccio proprio per far capire che ci sono dei piccoli interventi che alla fine mi posso dare sommati mi posso dare delle efficienze molto importanti ricordiamoci che l'Europa si è impegnata a fare il famoso 20-20-20 dove il 20% è l'energia rinnovabile un altro 20% è la riduzione della CO2 e l'altro 20% è il consumo e il risparmio energetico per cui ci saranno degli incentivi a queste operazioni di risparmio energetico usciranno entro a fine anno le norme 16.000 16.001 che andranno un po' a ricalcare quelle che sono state le norme ISO 9000 e le 14.000 per l'ambiente non saranno volontarie però permetteranno di gestire il sistema energia e fare in modo che ci sia un miglioramento continuo nella gestione energetica e soprattutto che l'aspetto energetico venga condiviso dalla direzione fino alle maestranze più bassi in modo tale che ci possa essere un recupero di efficienza energetica perché abbiamo proprio veramente tanta strada da fare ci saranno anche qui dei manuali delle procedure istruzioni operative così come sono i manuali di qualità che ormai sono difusi in tutte le aziende bisognerà indicare quelli che sono i performance indicator che sono praticamente quegli indicatori che mi dicono se io sto migliorando o se sto peggiorando come dicevamo prima rapportare l'energia consumata con il fatturato prodotto in quel giorno piuttosto che con le quantità di pezzi prodotti o le ore di lavoro fatte con il giorno in azienda l'obiettivo finale è quello della riduzione dei costi se non ho riduzione dei costi allora il sistema di risparmio energetico non ha comportato nessun risultato il tempo purtroppo è tiranno grazie